E' l'ispettore che ci interrogava, allora parlami della frizione, parlami del differenziale e io tutta questa roba ne avevo una testata così perché un camion, della macchina non chiedevano tante cose ma del camion, un'altra responsabilità. Allora quando arrivi qui, quando arrivi là, chi dai la precedenza? Tutto così, ma a voce, teoricamente, ed era un po' difficile, poi la guida me l'hanno fatta fare in collina, ai capuccini. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze raccontate da uomini e donne che vivono in in Piemonte, nati prima del 1950. Se ti è piaciuto il racconto di Teresina Bruno, una delle prime donne camioniste e hai voglia di raccontare la tua storia, puoi telefonare ai numeri 011 02 03 800 o 011 5757 403. Il tuo racconto diventerà patrimonio della memoria collettiva.